Ragazzi, che dire, pareggio giusto, è appena finita la partita, sto facendo questo video Pareggio diciamo, come devo dire, ha due facci della medaglia, nel senso che comunque il primo tempo meglio il Benevento, il secondo tempo meglio il Lecce Quindi comunque alla fine tutto sapato, è stata una bella partita, specialmente il secondo tempo Perché noi il primo tempo abbiamo fatto schifo, praticamente tutti i giocatori ci mangiavano pasticciotti, rustici, burpette, calzoni Stavano tutti deficitari, uno pensava a quella scopa, l'altro pensava a se va a prendere il caffè, un giorno pensava a mangiare un pasticciotto Oh Benjamin, hai di sciogare! Dopo hanno pensato che sciogano, prima pensavano i fatti loro, se va a scuare, no? Luciani non si capisce se sciogavano con il Lecce o con il Benevento, visto che hai già legge Ancora l'ho visto un po' così, un po' confusione all'inizio Diceva, ma che c'è di sciogare? Con il Lecce o con il Benevento? Ma facciamo uno tempo, uno tempo, quindi uno tempo è sciogato con il Benevento e uno tempo è sciogato con il Lecce Dice a 50-50, no? Hai equilibrato un po' perché sennò poi pari a fiacco Ci sciogano piccatecchio con uno, piccatecchio con l'altro, vabbè, giusto, bene, Luciani Giusto, non te baffaci in culo, chi ti ha suonato Che cazzo combino al primo tempo? Uno casino con Berlino, la giocata scarica Barili Praticamente, non picchiava la palla, aspettava sempre Calabresi con un paio dopo picchiava la palla Così facì, praticamente ti vede spostare e la picchiava l'avversario la palla Poi, quello che ha fatto il Benevento è credibile, purtroppo Calabresi ha fatto quello che vuole essere facile Calabresi, secondo me, oggi aveva voglia di segnare, però nella porta sbagliata Perché? Prima ha tentato di testa e ha preso il palo Dopo 30 secondi, quelli hanno fatto il cross e l'ha buttata di petto Quindi ti dice, non voglio segnare di testa, proviamo di petto e ti è andata bene Quindi, sei riuscito a segnare, la porta avrebbe sbagliata e l'ha fatta fatto a tuo collo Però, dici, no, in qualche modo tocca a segno Oggi vai alla tua moglie e dici, oggi ho segnato, però la porta è sbagliata E vabbè, ci sta, dici, sono stato sfortunato Ho provato di testa, ho provato di petto e ce l'ho fatta Per la prossima volta, Calabresi, cerca di segnare la porta giusta, non quella sbagliata Comunque, a parte queste cose qui, che ovviamente sono vere, ma purtroppo succedono nel calcio Il pareggio ce l'ha fatto rimanere in testa Quindi siamo ancora primi, andiamo avanti per la nostra strada Abbiamo l'Alessandra che oggi vinceva con casa del Brescia E si è fatta raggiungere il finale Non ho visto la partita finale, il risultato finale, ma credo che sia finito il pareggio Perché stavano, praticamente, Brescia e Alessandra hanno giocato, non so, 30 minuti di più Non si capisce quanto hanno giocato, non finiva più il recupero Non lo so che cazzo è successo, perché non ho visto la partita e non me ne feca un cazzo Però comunque, la partita, spero che non faccia qualche gaffo Che sia finita in pareggio, perché magari poi, no? Il bello della diretta è quello, nel senso che tu dici una cosa e poi magari ci vinto una, Laura, non lo so Comunque, sarà una partita difficilissima Rimaniamo in testa Sono molto contento Non della prestazione, non mi è piaciuta sinceramente Fatemi sapere cosa ne pensate A me non ne è piaciuta Domani parlerò dei singoli Ci sono molti giocatori che oggi Quali? Ho pure sbagliato Ci sono molti Che Perché quando una persona è assente, no? Non la puoi neanche dire Perché se una persona in generale non c'è, no? Io non ci sono, mi sposto Non c'è più nessuno Quindi I giocatori oggi erano così, assenti praticamente Non c'erano, non c'erano Quindi non li posso Manco nominare Voi sapete già benissimo di chi parlo Boh Stanno pensando alla mughiera Stanno pensando stasera che hanno uscire qualche parte Non lo so S'hanno fatta una trombata prima la partita E ci siamo Boh Non lo so Comunque erano assenti Ragusa ancora non c'è Faragò penso che è rimasto già a casa sua E non sta a cioccare Lo Blenno Primo tempo Si è ciocato a freccette con gli amici soi E lo secondo tempo ha tornato Vabbè, ha fatto una parte Come guadagno la pagnotta, diciamo E' tornato Noi ha giocato Ha chicchiato Però al primo tempo Ha picchiato di Peccuro Pleno, la picchiata di Peccuro Ci ha giocato proprio Il secondo tempo è tornato Perché sennò poi io ti ha criticato E ti ha massacrato Chi ti ha assurrato Quindi ragazzi oggi c'è mancato pure Juhlman Infatti se è vista Purtroppo a centrocampo L'assenza di Juhlman E in difesa di Termaco Se è vista l'assenza Quindi Ha giocato chi? Sto cazzo! Quindi ragazzi non so chi ha giocato E' innominabile perché non veniva da un lungo infortunio Non si capisce che cazzo ha fatto Non lo so Forse è nascuto in vacanza alle Maldive per tre mesi E poi è tornato Come ho detto in diretta Purtroppo Tuglia Non lo volevo dire E' stato pure scontento di giocare Perché Quando si è fatto male del Mago Ha detto Porca puttana Pocca mia Oh no Pocca mia Shogu C'è tanto buono in casa Con i pasticciotti Purpette E la birra Mi è toccato Shogu E infatti oggi non ha giocato proprio Ecco perché Quindi è proprio Precisa la cosa Quindi Cioè più Più esplicita di così Non si può E non si può Comunque ragazzi Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti quanti Oggi ero più di 140 persone Ho fatto un record Continuate a iscrivervi al canale Seguitemi sta facile Non voglio dire altro Ci vediamo alla prossima Sempre solo Forza Lecce Bari vaffanculo Salerno vaffanculo E poi scegliete voi le squadre da dire Altre vaffanculo Sotto scrivete Tutte quelle che volete Tutte quante Per me Bari e Salerno Poi Poi le scegliete quelle che volete Ci vediamo alla prossima ragazzi Ciao a tutti Via